Bama, ti ama e ti premia. Vieni all'esposizione Bama Sofà di Scafati. Anche se non compri, compila la cartolina con i tuoi dati e puoi vincere. Un buon acquisto di 500 euro, valido per i tuoi prossimi acquisti. Istrazione in diretta live, il 28 febbraio. Bama Sofà, solo belle novità. Centrosalotti, divani letto e poltrone, materassi, oggettistiche e complementi di arredo. Il meglio della tradizione artigianale italiana, con sconti del 60%, più extra sconto IVA del 22%. Divano letto reversibile da 398 euro, e le famose poltrone relax, a partire da 168 euro. E tante altre imperdibili promozioni, in un assortimento che risponde a tutti i gusti ed esigenze. Bama Sofà, e in via Dante Alighieri 27, Scafati, nei pressi, del supermercato Sole 365. Per info, 081. 18, 12, 98, 73. fo. Eerb dicho giro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.